Il malaffare non abita a Santa Domenica Talao. Il sindaco Alfredo Lucchesi inizia così il suo breve ma intenso intervento nel corso del Consiglio Comunale tenutosi sabato scorso. Difende con le unghie e con i denti il proprio operato e i componenti della sua amministrazione. Chiama Vigliacchi, gli autori delle 16 denunce anonime che lo dipingono come vero e proprio capo di un'associazione a delinquere e mandante degli atti intimidatori verificatisi nella campagna elettorale del 2014 al vaglio anche dell'antimafia. Nemici della tranquillità del popolo, ha spiegato Lucchesi, che si definiscono appartenenti al Movimento 5 Stelle di Santa Domenica Talao. Fatto sta che di loro non conosciamo le facce e non sappiamo neanche in quale sede operano. Tant'è che lo stesso senatore grillino Nicola Morra ha preso le distanze e mi ha chiesto scusa. Lucchesi è stato un fiume in piena e ha spiegato la sua posizione. Sono indagato per voto di scambio che si sarebbe consumato attraverso l'elargizione delle borse lavoro. Secondo gli organi competenti, ha detto il sindaco, la mia colpa sarebbe stata quella di aver erogato 4.000 euro di borse lavoro anziché 12.000 e quindi di aver risparmiato 8.000 euro. A queste si aggiungono le denunce anonime. Secondo i miei accusatori, questa amministrazione avrebbe avuto a disposizione 30.000 euro di fondi per le borse lavoro, di cui 4.000 erogati e 26.000 intascati da me e da alcuni miei amici. Sempre secondo loro, quattro nuovi componenti di questa amministrazione sarebbero legati a famiglie mafiose. Addirittura il cimitero di Santa Domenica Talao sarebbe gestito dal malaffare. Ebbene, questa per me è follia, ma a loro rispondo che se posso aiutare dei giovani o delle famiglie in difficoltà con delle borse lavoro, continuerò a farlo. E per quanto riguarda la gestione del cimitero comunale, voglio ribadire che sceglieremo sempre ditte di Santa Domenica Talao e giammai affideremo qualcosa degli esterni. Insomma, per Lucchesi tutto è frutto di una grande macchinazione, una esagerazione alimentata da pochi folli. Santa Domenica Talao ha concluso un comune con un bilancio di appena 100.000 euro. C'è poco per il malaffare. Io penso invece che sia un'isola felice e noi ci siamo sempre impegnati per il bene comune. Dal canto suo, il consigliere di minoranza Giuseppe Antonio Lagreca ha chiesto che il discorso venga approfondito in un consiglio comunale ad hoc e la sua posizione è stata ben impressa in un documento consegnato alla stampa e che mira a far luce sugli atti intimidatori avvenuti nel corso delle precedenti campagne elettorali. Non possiamo nascondere che si siano consumate delle intimidazioni, ha detto la greca. Nel 2004 toccò a un componente della mia lista. Nel 2014 a una sostenitrice del mio gruppo e a un'aspirante candidata della mia compagine. Tant'è che nella scorsa campagna elettorale ho dovuto presentare una lista di soli sette componenti. Stessa sorte toccò nel 2013 all'assessore in carica Salvatore Paolino, cui vennero forate le ruote della macchina. Non dobbiamo dimenticare che alcune famiglie davanti ai seggi intimidivano chi si apprestava al voto. In ultimo, nel 2004, persi la competizione per quattro voti, nel 2014 per 228. Penso che questi fenomeni vadano analizzati e contrastati, altrimenti passeremo sempre per un paese governato dal malaffare.